ciao a tutti ragazzi aspetta aspetta vieni qua vieni qua dove sei amici una domanda banale so che è banale ma mi date le coordinate ancora no basta 60 700 più o meno poi ti trovi perché è sotto la montagna siamo cavoli sono uscito da bellissima miniera ma devo segnare perché mi pare proprio un posto carino e ci ho lasciato una fornace con del carbone io porto carbone ferro e copper ho preso un bel po di minerali in miniera parlando parlando ridendo e scherzando si 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 io ho due bistecche di maiale però ragazzi El Chiria fate la farm mettete su una bella produzione di bistecche volentieri se ci dite più o meno dove potremmo fare la nostra zona è volentieri lontano dalla piazza dividiamo la piazza in uno specie quadrilatero in qualche modo e la piazza va necessariamente fatta a tonda esatto e la facciamo attraversare da una strada che fa un incrocio diciamo allora scusami una cosa surreal dimmi ci abbiamo tanta abbastanza cobblestone andiamo a fare il disegno della piazza ok benissimo ragazzi l'ultima volta le coordinate giuro non le chiedo più 60 700 poi ci trovi comunque giuro non le chiedo più l'ultima volta la z non serve perché è semplicemente l'altezza nel piano e benissimo perfetto ce la posso fare anch'io anch'io ce la posso fare volete fiori gialli e rossi funghi venenosi mi fai il fio come che si dice il fioraio si adesso adesso si dice così adesso si dice così una volta si dice in maniera più cruda tipo ho detto che non farò battute di scarsa qualità non le farò bella questa secondo me è già la romagna inizia allora allora ecco un bello spiazzo ragazzi le pecorelle eia eia vanno colorate allora c'è anche una pecora nera bene quella è vento allora io ho bisogno di surreal punto sì sono qui sono qui ho anche tipo tre stack no due stack e mezzo di anche io ho uno e mezzo allora è notte torno a me mi era perché c'è una casa di fango e me non è dove sei attenti c'è uno zombie da dietro un cane un cane io ho due ossa se mi dici dove sei posso dartele vedere ma vuole le ossa o la carne è putrida no per farti all'amico devi dargli le ossa oh cazzo non le ho dove sei ti raggiungo ti do le ossa sono a 770 70 due cani ce ne sono due ce ne sono due cani vacche e sistemate anche il soffitto quando si sono tre cani e si inizia da una parte e poi si fa l'altra è pieno di cani ragazzi io arrivo e porta 3 4 cani e io solo due ossa ora vedo anzi vabbè sconfiggiamo un paio di scheletri sulla via oh ciao 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 vabbè io vado lì 775 69 ok che figura di parte 75 69 775 69 che palle cazzo sì oddio è pieno di creeper oddio 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 scappa su le scappa oddio 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 attacco di emorroidi non è più o meno scappa scappa oddio oddio è visto ha già fatto una battuta e io non è resistito 775 89 detto mamma mia 775 89 vabbè io torno in piazza tanto ormai ti ho perso non so dove sei Avete la piazza che così si mette a fare la fan Avevo detto 775-89 Dov'è 89? Vabbè Se ci sono ancora i cani quando torni fammelo È pieno di cani Se trova la mia roba Avessi messo il kill point sarei stato più furbo Vabbè no c'hai il death point E non l'ho messo sono imbecila Non è configurato Dov'è che ha messo la cobblestone d'Archim? Non l'ha messa E dove? Ma dov'è che sta vicino la piazza Non trovo dove sono morto Che figura di merda Eh quindi bisognerà dire avverente Che dovrà spostare un pochino La miniera è qua Così piccolina No questo è solo il centro Eh aspetta Ora tiro fuori La mia immagine No non pensate male La mia immagine è di cerchi Che c'ho un'immagine per come fare i cerchi in minecraft Sarà utile Di che diametro vogliamo fare? 20 blocchi? 22? Sì 22 Va bene Allora 22 Insomma un pochino 22 Perfetto Vabbè Eh dovrò fare dunque Sono uno Allora uno due Uno due tre quattro cinque sei sette otto nove No no calma 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 Fermo Questo è il centro? Eh no il centro deve essere di quattro Ma dov'è che sono morto ragazzi non ne posso più Dov'è la mia roba? Uno due tre Quattro cinque sei sette otto nove Volevo dire ferme Quattro Noi stiamo accumulando un sacco di materiali da scambio qua Eh no più che altro adesso dovete darci una mano dopo Ciao No no Aspetta il giorno prima di partire Eh volevo recuperare la mia roba C'è un pochino di mercanzia Mannaggia che figura Che figura Ma non farla più alta Surreal Eh no stavo solo vedendo dove metterlo Allora quindi un due Se mi dici fino a dove arrivare mi fa un favore Eh non è così facile Aspetta Vedi che siamo molto convinti su quello che dobbiamo fare Il perimetro E poi Riempite Beh io intanto riempito E scavo E' scesa giù Allora Suono Uno due Uno due Uno due No eh No eh Voglio fare Uno Due Sette cento e settantacinque Dai dai Rientro Ce la faccio Allora Ciao Luke Scusa Due due Uno due 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 Uno due Sette cento e settantacinque Sessantanove Basta che si numeri Mi prego Ragazzi scusate ho crashato Sto ritornando C'è quel punto che sono morto prima Che ho perso l'inferno disumano Aiuto Ma io avevo la corazza di Redbatter Ma chi me l'ha fatto fare Metti qualche torcia Metti qualche torcia Settecento e settantacinque Sessantanove Vediamo se ce la faccio È giorno Forse ce la faccio E recupero la mia mercanzia Benedetta Magie Benedetta Magie Dov'è Ah che palle ragazzi Che palle Avevo un creeper davanti L'ho colpito È sparito Settecento e settantacinque Sessantanove Settecento e settantacinque Ma sparisce Ma è giorno Perché non muoio lo zombo Settecento e settantacinque Sessantanove Settecento e settantacinque Sessantanove Qui stiamo dando i numeri Non stiamo giocando All'otto di gioco Ma Ah ho capito Ma è smussato il cerchio Eh no Ho trovato la roba ragazzi C'è con Con i micro blocchi Poi Ma scusa Ma se fai così Poi E fai così Eh no Viene più un Un zombo Che un cecchio Settecento e settantacinque Ah Settecento e settantacinque Ah Settecento e settantacinque Non sono capace Ragazzi Non sono capace Non sono capace Sono tre Sei Uno El Kyria Sì Portate Gobless Sì Sì No ce ne ho Ce ne ho Eh no Dobbiamo far con la strada Ok Ragazzi Ma è possibile che mi sia già scomparso tutto Sì Eh sì Mi sarà già scomparso tutto Di sicuro Eh la roba è scoppiata qua Che palla Ho scavato una tonnellata di roba Uffa Iniziamo bene ragazzi È una serie fantastica Ciao a tutti Ciao a tutti Ricominciamo Ricominciamo Eh ma ci sono neanche quei bei cagnolini che si erano privo C'è più niente Hai sbagliato serve secondo me Eh ho trovato cani, porci, maiali Ma che palla Aspetta Uno due Ah ha sbagliato Fa più Questo va qui Uno due Uno due Allora abbiamo un sacco di materiali di ogni tipo Quindi l'industria e craft o altre cose Siete a posto Sì che palla Ma così poco ci mette a sparire la roba Du palla Eh sì Eh quattro minuti ci mette Ah beh allora che si è sparita coi fiocchi bro Con gli interessi è sparita Tuve E se vuoi qualcosa ci sia Ma lascia stare sto rosicando un po' Ma no Uno due Uno due Ce la farò Uno due Eh mi dai un tocco di palla qui Dov'è? Qua Ahia Qui Attento c'è un po' Un creeper Fa un porco demonio Esplodi Bravo Oddio ho metto cuore Mi dimentico sempre che non ho l'armatura di Dark Matter Pirla Non hai la mia cosa di cibo Tutto Vabbè mi sfogo pittando la vacca Bravo fai bene Ho un altro osso Quindi se travi dei cani Quasi sicuramente ce l'hai Ma lascia perdere Non c'è più neanche un cane È pazzesco È scomparso tutto Uno due No quindi è uno Ma pisce lo sai Uno due Tre Quattro Cinque Insomma Faccio eco? Potremmo stare insieme Anche di più Ecco tu qua El Kyria Sì Cobblestone Grazie Arriviamo Kyria sta per morire di fame Ma veniamo Dammi 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 la 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 Corba E poi Voi cibo avete mica trovato qualcosa? Eh no Io c'ho quattro bistecche Ma devo cucinarle Io sto arrivando con due bistecche di vacca ragazzi Dov'è? Vienite Sto portando le pecore Cerca di tornare superficie Non vorrei aver sbagliato Questo lato Un attimo Uno due Uno Uno due Uno Uno due Il cane Il cane Teo grazie si è il cane Eh dov'è? Che magari se ce la faccio vengo Ma sarà a quattro chilometri di distanza Robabile Ma dove è finito? Era qua E poi mi sembra fosse da queste parti l'uscita Ok ora c'è solo da tipo demolire mezza Mezza piazza però Cioè no Mezza mappa non hai capito Sono sicuro che è di qui Ma è finito il cagnolino Eh ma che due palle ragazzi E' venuto davanti E poi scomparso Io sicuro che fosse di qui l'uscita Eccolo Mo' con due ossa Non si innamora Sono sicuro Va che faccio Ho trovato i cani Ho trovato i cani Surreal Dimmi Faccio una cesta per la palta Qua in mezzo Ok Ragazzi ho un cane Bravo Sì c'è il collarino va bene E come lo chiami? Allora 762 70 ragazzi La zona dove ci sono i cani Come lo chiamerai? Ah è giusto Penso di chiamarlo Caccala Sì mi piace Caccala Sì esatto È un nome romantico Sì sì mi piace molto È un scelgo in un altro buco Aia Ma se io fosse un cane Mi piacerebbe essere chiamato Caccala Sto muovendo Sto muovendo Mio primo cane da bambino Si chiamava questo nome stupido Ragazzi Mi spiace Mi spiace soprattutto per il cane Sei destinato ad avere un brutto nome Ah io qui sto recuperando un po' di cibo ragazzi Arrivo con un po' di cibo ragazzi Appena arrivo Dove sei? Ci abbiamo bisogno E guarda il tempo di recuperarlo Perché sono 770 70 Questa è la mia posizione Se ti interessa Centinaio di blocchi Esatto Sto portando vacche Pelle Il mio cane Caccala E puerci Cani, porci Maiali, bestie Schifezze Volentieri guarda Siamo 0 di fame Dovebbe uscire dai Ma ha preso l'influenza la bimba Ma sta avvenendo questo cerchio Un po' di mal di gola forte Che senso Sì più o meno Dai ci siamo ci siamo Allora c'ho 10 bistecche Dai vengo da voi Noi stiamo tornando dalla piazza Ecco scusate se sono ripetitivo Ma indovinate cosa vi sto per chiedere Le coordinate Le coordinate Esatto Robin C'era un foglio sul tavolo Penso di no Adesso segno questo posto Lo chiamo Eden Ragazzi Benissimo Questo è il famoso Eden Benissimo Dai ditemelo l'ultima volta Giuro Arrivo Allora 70 660 Ragazzi Giocatele all'otto Se vincete non dategli un cazzo 660 Per abbassare Devo andare in alto Giusto? Allora Porto ciccia Porto caccala Bene Perfetto Allora chi vuole Cobberstan? Noi Poi mettete a lavorare anche te Guarda Metti qua riempi tutta la No no perché dobbiamo stare fermi Già vogliamo Vedo una casa di legno in alto Con una crafting table Ma invece di buttare tutta così Eh fai come ha fatto Ok no come non detto Allora Poi anche tu Cosa? La darking della Cobb Mettela nella cesta Chi mi insegna come si danno i comandi ai cagnolini? Eh su questo Pacchetto non si può Ah quindi il mio cane mi segue e basta Sì e ti aiuta contro scheletri, ragni e zombie Creeper no perché ha paura Ma muore facilmente? Eh no È abbastanza lungo di vita Però quando vedi che ha la coda bassa Vuol dire che ha poca vita E gli dare delle bistecche Ok ho la carne ben putrida Ragazzi Sì Sto arrivando a 670 Basta numeri Di le lettere ti prego Vi vedo Vi vedo Arriva la ciccia Sono arrivati i teletubbies Ecco Cibo cibo Ma io c'ho del cibo Sembra che davate Ehi Mi dai una bistecchina Almeno una La metto nella fornace direttamente Guarda vai Scusa Tieni il ferro Che sta cuocendo Prego Senti pure Darking Darking Lascia Anche gli altri pezzi Però Lascia la alta In questo modo uno Cosa c'era dentro? E' otto pezzi di ferro Prendi pure Prendi anche io uno Doveva fare la strada Eh vabbè la facciamo Che sale Che scende Con gli scalini Ecco me ne prendo Giusto una Vai vai Quello che ti serve No più che altro Eeeh No Qua è bello Perché dobbiamo aprire Almeno per un attimo Nutrite Anche solo così Ti rivesti tutto di Adesso ne lascio Una Devo mangiare ancora io Ne lascio Altre 5 Cotture Ragazzi Ok Grazie mille Me ne frego Magari X Allora Prego Grazie Non parlare Bimba Allora Ma ragazzi Questa vi sembra Una piazza Cioè ci sono due montagne E l'altra Dove le costruiamo Le case Rimetto il calvone No ma Le case Non è che le facciamo Attorno alla piazza Si No Siamo davvero appiccicati Eh ma infatti Se devo fare la strada Non vedi Eh ma 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 Devi fare la strada Devi fare quattro strade Eh si Ma non è che Vanno tanto avanti Le strade Devi spianare tutto Caspita Beh ragazzi Ritorno nell'Eden Ok L'Eden Era più La tua zona Conta un sacco di cose 670 Ah Sto Guarda Non dice tutto No surreal Tira giù tutto No ma è più bello Che sale e che scende Ha più il senso di naturale Ma che naturale Tira giù tutto Ma 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 Guarda Tira giù tutto Se sale Ma no Eh ma così Ci sono tutti i muri attorno E ti tocca Tirare giù Tutta la collina Tira giù tutto Fidati Ma ma Guarda Dove cacchio c'ha dei scendi Dei scendi E non c'ho legno E non c'ho legno Ma disattiviamo la matemus Che c'è un piaccio Le pastiglie Vaffangale Ma Devo modellarmi la terra Se no non mi piace Mi dispiace Ragazzi vado in miniera Ok Cerco di portare a casa Un po' di ferro Se il cane mi segue Ma il cane si perde Non è in miniera No Se si perde Si teletrasporta Seguami Ok Vediamo dove la miniera Miniera Hai capito Perché stavo Tirando giù tutto Si ma Devo modellarmi bene la terra Se no non mi piace Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace ma non mi piace Cos'è che devi modellare? Questa terra Questa terra Qui accanto alla strada Perché se no È troppo a strapiombo Non è naturale Eh ti raggiungi Che strano ragazzi Per un attimo Ho visto come se avessi Se avessi raggi X Eh si Capita quando carichi Novi Chanka Ma pensate Ho visto Poi sotto La mia vecchia miniera Che avevo perso Che trick Torce Le torce Dei campioni Se qualcuno vuole uranio Abbiamo anche Anzi illumina tutto Illumina tutto Illumina tutto Illumina tutto Eh ok 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 Segni un punto Comunque non ho capito Cosa intendi Per non naturale Tu No intendo Eh perché Se è troppo strapiombo Sembra tipo un muro Eh Tra due edifici Per capirci Ma appunto Devi tirar giù tutto No no Non voglio tirar giù tutto È bello Che tipo Ci sia una piazza Da Da C'è una collina C'è un piccolo viale Allora Eh sì Con questa insenatura Nel Sì Perfetto Nel Sì Vabbè Ok Ho capito Ah uno arriva C'ha la strada Che manda la piazza Eh Ok Sì Poi avrà due possibilità O va a destra Che c'è un'altra strada O va dritto Ok Se tu vai dritto Seguimi Guarda Seguimi Seguimi Sì Se tiri dritto Vedi che è tutto Più o meno piana Come l'ha Guarda qua E porta Anzi qua si un po' E passa E porta di qua Ah Beh comunque no Io intendevo Che S Eh comunque carino Tenere un po' di terra Un po' di Di terra Nel senso di Di bioma Attorno alla piazza Della serie Ci lasci un po' La montagnina qua Ci lasci una collinetta lì Eh vabbè Ma prima spiagno E poi decidi dove mettere l'erba Le cose Eh ma è più difficile costruire Che tirare giù Fidati Non puoi costruire una collinetta E sperare che ci sia naturale Iutimi Vabbè comunque Questo pezzo qua Che dove sono io Va tirato giù tutto Perché devi guardare al mare Sennò è inutile Ah questo pezzo Sì Però fino a un certo punto Della serie Quando Quando arrivi vicino a tu Non lo togli più Non c'è più casa di Vrentes Ragazzi scusate È sconfasta Così Puffete Ma nel caso Potrebbe secondo voi venire carino Se facciamo una specie di città Come se sembri Ognuno c'è la sua casa E poi si fa Una zona proprio a centrale Una zona Ragazzi Scusate Ma pirla Ha ammazzato il suo primo scheletrino Ma pirla è quella di Luke Non è il tuo Oh no Un'altra cosa Non ne posso più ragazzi Mi distrago un attimo E muoio Beh stavolta dovrei trovare le mie robe Sì Ma sai cosa Sapete cos'è il problema di Roberto? Che tutte le volte che muore Rinasce lo spawn E quindi si deve fare 600 metri a piedi No Nasco a casa di Luke Per fortuna Ah ecco Adesso vengo lì Mi faccio il letto Mi sono stufato i marroni Che noia Che barba Bene Però voglio stare bene Vassi Lascia stare Insomma ragazzi È duro ricominciare Dai Che du pas Eh Ti piacevano i diamanti No A me piace più la patata Ma quella da mangiare Eh certo Figurati L'altra da solo problemi Dici Sì 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 Ma psicologici Soprattutto quando è fuori garanzie Visto Non è riuscito Nemmeno per una puntata A non fare battute Sì Attento a dar che c'hanno zombie dietro Appalati Nel naso Nel naso Ho ritrovato tutto Ho ritrovato tutto E il mio cane sta picchiando un ragno Le sta prendendo In santa ragione Il cane Bravo Pirletta Ma come fai a dare il nome al cane? Perché abbassi? Eh Non puoi Puoi solo quando c'hai una mod particolare Peccato peccato E' appiccata Eh ragazzi Sì Devo darvi una brutta novità Cosa succede? Un momento bruttissimo Eh Ma è veramente preoccupante Sì Hai Hai Avete presente le coordinate vostre? Sì Quando sono venuto lì? Non ho mica salvato Bravo No 70 No 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 Basta Basta Ma guarda Se premi il punto E vai nel menu Puoi settare un waypoint Ma sapete che il mio cane è già morto? Il mio cane è già morto C'è C'è L'abbiamo della lana Sì Magari ci sentiamo lo spawn Dato che Luke è uscito Guarda la cesta che ho fatto io Eh C'è nessuno Beh ragazzi Io sempre preferito i gatti Anche io I ragazzi Fatino due Però tu sarei la mattina 20 o 21 Non ricordo più Oddio Spero tu stia scherzando No Oddio Quando scherza le spara peggio C'è anche tre cani Perfetto E c'è anche un cane Da un fratello No è Questo Insulta Allora La Va bene Qua abbiamo spianato Più o meno Più che meno Ma L'echilia Voi che Avete qualche materiale Che potrebbe Eventualmente Servirmi Perché io c'ho Un po' di ossa Che magari Un po' di bombina Vi potrebbe servire No Ma e noi abbiamo Beh Ferro Tin Oro Smeraldi Diamanti Uranio C'è vedi Questi Vanno giù sotto Via Basta No diamanti Non ancora Lo metto Redstone Ah facciamo Sura Facciamo così Ah visto che la casa Comunque devo costruirla qua Facciamo il dazio Ogni volta che passano Diamante Beh facciamo magari Automatizzato Con C'è un metodo Per farlo Non mi ricordo Come si fa Però se c'è un metodo Per farlo Beh però C'è da dire questo Ognuno dovrà chiedere Agli altri Qualcosa Che gli altri Possono dare Se uno alla fattoria E' più facile Che gli dia Un sacco di Cibo Piuttosto che Dei diamanti Da quel punto di vista Ma siccome il cibo Non te lo puoi fare Con la transmutation Va che serve Sì sì Il cibo infatti Facciamo così Sennò diventa inutile Dei ruoli Alla fine Con la EE Puoi fare Praticamente tutto Alla fine Si riducerebbe Si ridurrebbe Scusate A industrial craft EE E basta Secondo me E' più forte La EE Di tutte Però Sì Quello sì Non lo discuto più C'è una cosa Che ti fa creare Kiri Piccola Eccola la miniera Allora Ho trovato la miniera Ragazzi Uh del ferro Quanti Quanti smeraldi Barra rubini Barra zaffini Avete Abbiamo Uno smeraldo E Cinque o sei Rubini Allora Per tre rubini La mia offerta è Nove Buon meal E' un altro uovo Che buono Eh grazie Non ho più nulla Dove sei morto Dove sei morto Dove sei morto Nella lava Dove sei morto Mi ha lagato Quando c'è un punto Sono messo lì E sarà solo a me Che laga Ma pazienza Non ho più nulla Dove sei morto No tu giusto Nella lava Sono morto Nella lava Non c'è più nulla Bene Ma eri nella lava Nella lava O eri vicino Nella lava Nella lava Non ho caduto E mi ha lagato Non usciva a muovi E mi sono morto Eh ma eri vicino A dei blocchi fisici Perché le cose Tendono a saltare Quando muori Ma Non ne sarei Non ne sono sicuro Sono caduto In un minimo punto Però c'è rischio Ok quindi Non vale la pena Di andare a cercare Le tue cose Ma è un po' Un rischio Più che altro La tua donna Mi interessa poco Lì che scava Come una disperata Cioè Però se mi dai Le coordinate Magari stiamo vicini Tu sei vicino A Kiri Io? Eri vicino a Kiri No Lontanissimo Ah ho capito Perché lei si perde Va dalla parte opposta Però scava Come una professionista Sta mica lì A perdere tempo Eh Come un certo Darkin Oh Quei non mi offendere Ciccetta Sto chiudendo i buchi Eh E' Quattro di chiudere C'è chi li apre Benissimo Ragazzi È stato un posto Meraviglioso Faccio miniera Per un po' E quando un po' Di materiale torno indietro Io ricordo che dovrei fare Le ferrovie Dovrei Perché se muoio sempre Faccio un bel cipettone Io Ora vado a cercare Delle tecole Così magari Ah cavoli Non posso fare il cipettone Perché la computer Ce la sorria Questa è brutta La battuta Non lo dico più Va bene Questa era pietosa Ragazzi Non l'ho manco capito Infatti Quando la battuta La devi spiegare È già detto tu Esatto Mettiamo le torce qui Io ragazzi saluto tutti Riprendo la prossima puntata Con la miniera Mi spiace il sonnoioso Ma qua serve mercanzia Anch'io Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao alla prossima Ciao Ciao a tutti